Io mi chiamo Antonio Morandi, sono un medico, un neurologo e anche un medico ayurvedico. L'ayurveda è la medicina tradizionale indiana. Io ho conseguito i miei titoli di medico e di neurologo qua in Italia, poi ho passato un lungo periodo negli Stati Uniti dove mi occupavo di malattie neurodegenerative, lavorava all'università e a un certo punto però in me è scattata un'esigenza diversa, un'esigenza diversa che derivava da un bisogno maggiore del rapporto con il paziente. La nostra medicina moderna, pur essendo estremamente valida da un punto di vista tecnico, perde di vista proprio questo. Quando io medico ho un contatto con il paziente in realtà questo contatto è un contatto fra due esseri umani, fra due esseri umani che si incontrano nella loro totalità, con tutte le loro relazioni, relazioni interne ed esterne. Quindi per me è stato estremamente importante trovare un sistema all'interno sempre della medicina che mi potesse aiutare a ritrovare questa dimensione che la nostra medicina occidentale in qualche modo ha perso e l'ho trovata attraverso la medicina tradizionale indiana. Una quindicina anni fa è successo questo cambiamento nella mia vita. Sono andato in India, mi sono preso un altro titolo di studio in medicina ayurvedica e di lì è cambiata tutta quanta la mia vita e la mia prospettiva. Che cosa è cambiato fondamentalmente? Che cosa c'è di diverso fra la medicina così come noi la conosciamo in occidente e la medicina tradizionale indiana? E perché noi medici occidentali ci dovremmo occupare della medicina tradizionale indiana? Io sono italiano, non ho niente di indiano pur piacendomi molto l'India. fondamentalmente perché la medicina tradizionale indiana è una medicina antichissima, molto profonda, molto scientificamente corretta e questa sua antichità e questa sua profondità è stata mantenuta intatta nel corso degli anni. La medicina tradizionale indiana ci dà delle indicazioni per osservare la natura e quindi osservare tutto l'ambiente che ci circonda, osservare i nostri pazienti in una maniera completa, in una maniera diversa. Noi in occidente siamo abituati a considerare noi medici le malattie. Quando andiamo all'università ci insegnano a riconoscere le malattie, ma non ci insegnano a riconoscere un individuo sano. Nessuno di noi sa che cosa vuol dire salute e quindi noi pensiamo che la salute sia solo assenza di malattia. Ma guardiamoci un attimo dentro. Quanti di noi possono dire, pur non avendo una malattia eclatante, che sono veramente sane? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso la definizione dell'Ayurveda di salute e l'ha fatta propria, proprio perché è completa. Questa definizione recita così. Salute non è solo assenza di malattia, ma ha uno stato di pieno benessere psichico, mentale e spirituale. Quindi la salute copre tantissime, tantissime dimensioni. E quindi io come medico occidentale ho trovato un completamento nella mia medicina, avvicinandomi alla medicina ayurvedica. Ho ritrovato le radici della mia vera medicina, della medicina italiana, della medicina europea, della medicina mediterranea. L'ho ritrovato perché mentre da noi si è perso, in India è rimasto intatto. In India sono molto bravi, mantengono le tradizioni intatte negli anni, noi invece le abbiamo perse. E quindi attraverso la medicina indiana noi possiamo recuperare la nostra medicina o tradizionale. E quindi parlavo prima della salute. Quindi la salute è una cosa importante. In Ayurveda ti insegnano a riconoscere la salute di una persona. E la salute deve essere mantenuta. Deve essere mantenuta non solo con le medicine. Perché in Occidente noi siamo abituati, andiamo dal dottore quando siamo malati. Però è già troppo tardi. Perché la cosa più importante è la prevenzione. La prevenzione è primaria. Il che vuol dire far sì che noi non ci ammaliamo. Per far questo dobbiamo conoscerci. Quindi dal dottore ci dovremmo andare quando stiamo bene per continuare a star bene. È un po' come il discorso dell'automobile. Noi portiamo l'automobile a fare il tagliando perché se aspettiamo che si guasti i danni sono molto più alti. Sono molto più... sono peggiori. E quindi è molto importante che noi ci mettiamo in testa che dal dottore si va quando si sta bene, paradossalmente. Ma che cosa possiamo fare noi poi per continuare a star bene? Anche Ippocrate, che è il padre della medicina occidentale, diceva quello che dice la Ayurveda. Fai che il cibo sia la tua medicina, fai che la medicina sia il tuo cibo. Quindi mettendo come funzione di prevenzione fondamentale che tutti noi possiamo fare tutti i giorni, il cibo, l'alimentazione. L'alimentazione è la medicina che noi prendiamo tutti i giorni. Quindi è ovvio che questa medicina deve essere assunta nel miglior modo possibile e deve essere una medicina di qualità eccellente. Se noi pensiamo un attimo a che cosa succede quando noi digeriamo? Perché noi diciamo io mangio una mela, cosa succede? Ho bisogno di mangiare perché sennò cado in terra, perché sennò mi sento debole. Ma che cosa è la digestione? Cosa succede quando noi digeriamo? Quella mela che noi mangiamo che cosa diventa? Io mi chiamo Antonio e la mela diventa Antonio. Noi dobbiamo ricordarci sempre che quando noi mangiamo, quello che noi mangiamo diventa noi stessi. Il processo della digestione è un processo della scomposizione degli elementi dell'alimentazione nei suoi costituenti fondamentali in maniera tale che possano essere assimilati e integrati nella persona, magari sostituendo altri elementi che si sono consumati. Quindi il momento dell'alimentazione è un momento fondamentale perché è un momento in cui noi cambiamo il nostro corpo, è un momento in cui noi manteniamo il nostro corpo. Quindi l'alimentazione può essere usata in senso positivo ma anche in senso negativo, in senso distruttivo. L'alimentazione ci può distruggere totalmente se noi non ci alimentiamo nella maniera corretta. Alimentarsi però nella maniera corretta ha due componenti perché non è solamente il cibo importante. Certo è importantissimo che il cibo sia di qualità eccellente, sia biologico, non ci siano inquinanti, è ovvio. Questo è perfino ovvio. Infatti tutti quanti vanno a cercare questi cibi naturali eccetera. Però che cos'è ancora più importante? Ancora più importante è il modo con cui noi assumiamo questo cibo. Quindi la modalità dell'alimentazione, come noi mangiamo. Quindi oltre quello che noi mangiamo è importante come noi mangiamo. Faccio un esempio. Noi mettiamo che abbiamo un progetto bellissimo di una casa, una casa meravigliosa, stupenda. Abbiamo la fortuna di avere perfino i soldi per comprarci materiali più belli. Materiali legni più pregiati, le pietre, perfino i chiodi più belli. Che cosa succede se a montare questa casa abbiamo delle persone incompetenti? Che questa casa viene fuori un disastro. Che la casa ci crolla sulla testa. E quando la casa ci è crollata sulla testa, se le travi erano di legno pregiato oppure di plastica, non fa molta differenza. La casa è crollata. Quindi addirittura più importante della qualità del cibo è la modalità con cui noi mangiamo. Quindi è estremamente importante capire che la digestione è direttamente collegata con la nostra emozione. L'emozione, il sentimento e il nostro stato d'animo. È esperienza comune a tutti noi che quando noi siamo arrabbiati e mangiamo qualcosa ci rimane sullo stomaco. E questo rimanere sullo stomaco cosa vuol dire? Che non abbiamo digerito. Quindi è molto importante che quando noi mangiamo, mangiamo in un ambiente tranquillo, anche se abbiamo dieci minuti, una pausa a dieci minuti, bene, ci mettiamo seduti, seduti, non in piedi, seduti, mangiamo anche un panino. Ma tranquilli, pensando a quello che facciamo, assaporando ogni morso, valutando i sapori e gli effetti che su di noi hanno questi sapori. È una meditazione. Sono dei momenti incredibili in cui la nostra testa si svuota e il nostro organismo si nutre. quindi dobbiamo mangiare coinvolgendo tutti i nostri sensi. Ripeto, anche cinque, dieci minuti, abbiamo poco tempo, perché uno potrebbe dire, eh ma tu hai tempo, la tua pazienza, l'India, tutte queste cose qui, le filosofie. No, non si tratta di filosofie, si tratta di buon senso. Tu hai poco tempo, bene, ti metti seduto da una parte con il tuo panino e te lo mangi in santa pace pensando solo a quello che fai, solo a quello che fai in quel momento, qui ed ora. E vedrai che la digestione sarà ottimale e che quel panino diventerà un cibo meraviglioso per te. Se tu mangi un cibo buono, biologico, fatto bene, ma lo mangi male, fai prima ad andare da un qualsiasi fast food che spendi meno soldi e il risultato che ottieni è lo stesso. Quindi, ricapitolando, quello che diceva Ippocrate è quello che diceva Ciaraca, che è l'Ippocrate della medicina ayurvedica. Fai che il cibo sia la tua medicina e la medicina è il tuo cibo. Grazie. 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 Grazie.